Questa è la pezza di un signore che si chiamava Ewell Bonsai, un signore che ho conosciuto in persona, uno degli ultimi grandi che ha suonato musica del Mississippi, questo brano si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel. Questa è la pezza di un signore che si chiama Miss Mabel.